Qui Wolfgard, architetto localizzato. È prigioniero al secondo piano. Ci servono i suoi schemi per sapere in che modo Nighthaven è coinvolto nella morte di Yahata. Qui Lion, ci siamo quasi. Sense fa davvero sul serio. Non ne ha lasciato in piedi nessuno. Ti manchiamo già, capo? Non preoccuparti, queste milizie non sono una gran minaccia. Ricevuto. Conoscete i parametri. Lion, contatta Clash mentre esci. Lo so. Recuperare il VIP, raggiungere il resto di Wolfgard, tornare per cena. A lì, di su. In posizione. Abbiamo compagnia. Baviamo. § § § § § Marche. Apare il sottotone. Alg Depende. Peruc거를. Üstare la bonte. Guardate le ponte. Purtroga. Mondialata. óc. Purtroga. Apare il supporto, Be desarnole il mugro. La gente ha troppa fiducia nella Forza Bruta. Se non ci sono obiezioni, ce ne andiamo con il nostro amico.